Una storia che prosegue dal 1831, quella per Pistoi al centro della prima giornata dei locali storici, con unico rappresentante della categoria sul territorio Caffè Vagliani. Da quell'anno gestito dall'omonima Famiglia, altro locale ma nella categoria Alberghi, sul territorio, è la pace di Montecatini. Il riconoscimento è dato dalla guida dei locali storici, che riunisce più di 200 strutture in tutta Italia. È storico, il Vagliani lo è di sicuro a partire dall'edificio che lo ospita. Che è stato edificato, si presume, intorno al 1330 dalla famiglia Fioravanti, che volle edificare accanto alla chiesa di San Giovanni, l'oratorio di Sant'Antonio Abate, con un percorso di corridoio praticamente per il pellegrino, con entrata, diciamo, dall'attuale via Cavour e uscita sul retro. Nel 1700, con la riforma del Vescovo Scipione dei Ricci, l'edificio venne sconsacrato, come tanti altri al Pistoia, e quindi trasformato in osteria con il proprietario che stese sui preziosi affreschi nell'interno diversi strati di intonaco. Nel 1331, con Margherita Vagliani, si entra nella storia che prosegue tuttora, iniziata con un primo recupero degli esterni. Mio padre nel 1964 ha veramente fatto l'intervento importante che è durato circa sei anni con la soprintendenza e a quel punto fu riportato a nudo tutto l'oratorio completamente. Furon totte tutte quelle superfetazioni che praticamente abrusivano l'immobile originario. Per la giornata dei locali storici il Caffè Vagliani ha proposto la degustazione di tre dolci che anche essi hanno fatto la storia di questo locale. La coreana, che è un tipo di dolce con una crema al marzala, che fu proprio inventata da un pasticcere di Trieste qui da noi, chiamata coreana perché fu fatta nel periodo della guerra in Corea e il pasticcere decise di chiamarla così. Poi abbiamo la dama, che è una sorta di sentonore, un po' rivisto, perché ha all'interno il pan di Spagna è guarnito con le bignerie coperte di chantilly e di crema al cioccolato. E la polentina, anche questa è una ricetta vecchia, appunto è un dolce semplicissimo, da tè diciamo, comunque è una vecchia ricetta, è molto gustosa, può sembrare pan di Spagna ma è più gustoso del pan di Spagna. Grazie.